Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Questa è la seconda parte di facciamo il gire del lago di Cerezone in tutto 7600 metri Posso buttarmi giù? Che ora è segna? Hai sionato il campanile 1-2 Che si è partiti a nulla di là? Ma da un'ora da camminare Si è giù si spacca la testa Oh Oh Girati Sono indietro Riprendimi A me Ciao Sono indietro Uh guardate dove sono